È bello, è bello ripartire anche da qua, è bello secondo me che ci siano questi momenti in cui si discute un po' il punto, in cui si vede come sarà il futuro e soprattutto lo si vede in un'università che insieme alla Guardia di Finanza in questo caso sono un punto di riferimento per la città e per i giovani, per gli studenti. Gli investimenti sono in ricerca e in servizi per gli studenti, questi sono i due grossi investimenti, servizi per gli studenti sono le residenze, sono le borse di studio, sono anche secondo me la capacità degli atenei di fare corsi di laurea innovativi che servono molto ai ragazzi per giocarselo poi sul mercato del lavoro. Gli investimenti in ricerca invece vanno dalla ricerca al business, per l'appunto cioè cercano di legare il mondo delle accademie e della ricerca anche di base al mondo produttivo. E' una sfida nuova che viene finalmente finanziata in maniera forte e che deve creare una forte collaborazione. Io credo che abbiamo realizzato che senza competenze non andiamo avanti, dobbiamo puntare moltissimo sulle competenze, dobbiamo puntare moltissimo anche sull'innovazione e l'innovazione viene dall'istruzione, non si crea dal nulla. Siamo felici di tornare in presenza, soprattutto siamo felici di condividere questa giornata per noi importante con questa prestigiosa scuola che ha collaborazioni numerose, importanti con l'università. Siamo davvero gioiosi per questa giornata, stiamo mantenendo esattamente gli stessi numeri dello scorso anno che erano già in aumento, però le iscrizioni ancora hanno un po' di tempo per essere confuse con il passaggio tra le triennali e le magistrali, quindi auspichiamo anche per quest'anno un leggero aumento che sarebbe comunque in contotendenza. A giorni riacquisiremo il centro congressi Zordan, stiamo riparando il giardino Botani-Calpino, le suore di Roio e quindi via via un pochino tutto ciò che è in nostra possessa. Già l'Ox a Valle del Terremoto ci qualificò come città della conoscenza per dirci di usare la conoscenza e quindi l'università e le altre istituzioni culturali come volano per la rinascita. Questo è quello che noi intendiamo fare e credo che stiamo facendo in maniera estremamente qualificata.